In questa città si mischiano differenti contesti, sia sociali che culturali. Trovano anche il modo di incontrarsi in alcuni luoghi e centri della città, come possono essere l'uomo che simboleggia il cuore fisico. Prima venivo solo a correre, poi vedevo gente che giocava a calcio, mi sono unito e devo dire che conosco tanta gente. Ci siamo incontrati qui praticamente, lui viene sempre a giocare qua, a volte mettono anche la rete da pallavolo. Sì, tutta la domenica. Ho iniziato, visto che mio nonno abita qua vicino, quando ero piccolino, mi dicevo se avevo 12 anni e se venivo qua così a caso. Poi pian piano mi sono sempre appassionato di più e ho continuato questo sport. Una sera stavo guardando Titanic e non so perché ma mi è venuta voglia di skateare. Mi è sempre intrigato il movimento del corpo nell'usare una tavola. Se venissimo al parco senza giocare a calcio piuttosto che a pallavolo, come faremo ad unirci? Saremo tutti separati dentro al parco. E invece il gioco, lo sport unisce, ci conosciamo. Unisce la cultura, come si dice. Siamo tutti sudamericani, italiani, tutto. Si può incontrare gente da tutto il mondo stando in uno skatepark. Basta che ti piaccia l'usbol, come avevo già detto. No, no, non importa, non ti riesco a dove sei, niente. Si vilipendia le nazionalità altrui. Però in realtà alla fine giochiamo tutti insieme tutte le nazionalità. Libertà, incontrare, divertirsi. Pieno di emozioni. Unione. 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 Grazie a tutti.